L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il suo nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera si sono goduti una passeggiata ai mercatini di Natale insieme ai rispettivi figli. Nonostante non ci sia ancora l'ufficialità della loro relazione, tutti gli indizi sembrano puntare a una storia d'amore che si è entrata in una fase più matura. Chiara Ferragni e il presunto fidanzato Giovanni Tronchetti Provera stanno vivendo una relazione molto più intensa e sempre più sotto i riflettori. Dopo aver trascorso Halloween insieme a Villa d'Este sembra che stiano cercando di trovare sempre più occasioni per trascorrere del tempo insieme. Il merito sarebbe dei figli che, frequentando la stessa scuola, offrono diverse occasioni d'incontro per la nuova coppia. Negli ultimi giorni sono stati avvistati proprio insieme ai bambini ai mercatini di Natale di Milano a Porta Venezia. Chiara Ferragni, l'uscita con Tronchetti Provera e la famiglia allargata ai mercatini di Natale. Gabriele Parpiglia e il portale da Gospia hanno documentato un momento che vede protagonisti l'imprenditrice digitale e il nuovo partner Giovanni Tronchetti Provera. La coppia è stata avvistata insieme mentre passeggiavano insieme ai loro figli per i mercatini di Natale di Milano a Porta Venezia. I due si sono fermati a giocare alla Pesca dei Pinguini, una delle attrazioni più popolari dei Luna Park. La Ferragni è apparsa molto serena ed è sembrata in grande sintonia con l'erede di casa Pirelli. La relazione sembra che stia diventando sempre più seria. La coppia, infatti, si nasconde sempre di meno. Prima i due si sono lasciati immortalare mentre si baciavano ad Halloween, poi mano nella mano durante una passeggiata. La breve gita con i reciproci figli sembra testimoniare come l'amore cresca sempre di più. L'erede di casa Pirelli Giovanni Tronchetti Provera, è padre di tre figli avuti dall'ex moglie Nicole Molausen con la quale è stato sposato dal 2016 al 2023. Anche tra i bambini sembra esserci una sintonia sempre maggiore. Secondo le foto pubblicate dall'esperto di gossip Gabriele Parpiglia la, famiglia allargata, dopo la passeggiata per i mercatini di Natale, è andata a giocare una partita a bowling. Insieme alla Ferragni e a Giovanni Tronchetti Provera ci sarebbero stati anche dei bodyguard per tutelare la coppia e tenere a distanza i curiosi e dell'etate per i bambini.